Sono molto contento di averlo sentito, questo è il risultato che mi pareva l'aveva sentito. E d'altra parte l'avevamo sentito già, vedo i amaglieri di Anna Pisani che assentiscono con la testa, l'avevamo sentito nel ciclo di San Domenico Maggiore, devo dire, pur parlando di un argomento stranotto, quello di un fratto di Leonardo, ci aveva, non voglio dire stupito, che se non potrebbe, come dire, che non ce l'ho aspettato, ce l'aspettavamo. Allora, adesso, raccomandando sempre rispetto ai tempi, perché se no ce l'abbiamo alle 9, e non vorrei di muore solo di 9, adesso abbiamo Augusto Russo che ci parla della città del Settecento a Napoli di Raffaele Cali.